buonasera a tutti dall'Ocusaibà che sarei io sto leggendo un commento che sono bruca di ramo in ramo, dorgheggio il tuo richiamo, bruca di affidamento no io ho detto vabbè c'era un polemico con dei russi perché è una canzone una canzone che loro piace molto Triste Canarino è di Fiorino Carrera e ho detto guarda la canzone negli anni 30, 40 insomma quindi nel periodo fascista si incazza, si incavola, ragazzi che vedevo fare in quel periodo lì degli anni 30, 40 sicuramente nel periodo lì, allora diciamo che è blu canarino che la canzone parla di un nido che è rimasto vuoto e dico beh probabilmente si fa riferimento anche ai soldati italiani che sono morti e allora se tu dici questa cosa sei un fascista no perché Triste Canarino è la canzone parla appunto del blu canarino che gurgheggia aspettando l'altro canarino che è partito e non torna più ma mi sembra, io non ho anche espresso idee politiche però questo ci dimostra come il mondo è bipolare che ho avuto anche l'altro canarino che mi ha detto ma sei di destra, no io non sono di destra e sinistra sono semplicemente io, nel senso io sono io e tendenzialmente ho avuto un pensiero anarchico tendenzialmente io sto sulle balle ai fascisti e ai comunisti in pari modo e qualcuno penserà che non schierarsi sia facile ma Dante è assolutamente sbagliato perché la cosa più facile nel mondo è schierarsi da una parte o dall'altra facilissimo, mi schierano a destra o a sinistra cioè i miei amichetti mi fanno dai 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 e invece stare nel mezzo che prendi legnate da destra e sinistra secondo me è la posizione più scomoda come diceva Dante tra Guelfi e Ghibellini io faccio parte per me stesso quindi non so, questo è un'altra cosa ti sei preparato a Dante, tanta roba però sì, io veramente non ho nessuna simpatia per questo governo non ho nessuna simpatia per i sindacati non ho simpatia per quasi nessuno a volte, quando mi guardo allo specchio ho poca simpatia anche per me stesso e quindi la mia simpatia poi, vabbè, diciamo, perdiamo i discorsi politici non farò continuo polemico oioi il fascista che poi ha detto da un russo ci hanno avuto Stani in 40 anni ragazzi che loro sono Stani io ho detto vabbè vabbè è il bue direbbe Violondo Contadino il bue che dice all'asino cornuto insomma, siamo sempre siamo a Stani, siamo a brava persona Stani lo sapeva mai a Kosky ma anche la persona va beh se me lo dice un inglese c'è un più senso della cosa che comunque l'Inghilterra è sempre stata una democrazia ma da gente che rimpia questi sono rimpiangono sono sono dei russi che si rimpiangono il momento non c'è il problema è che la Russia sovietica aveva ovviamente garantiva un sacco di di cose che anche a livello sanitario la scuola che ovviamente poi vabbè è un'altra storia lasciamo perdere e torniamo invece agli anni 60 60 vabbè arrivò anche il commento dell'RG questo è un fumetto che è un po' difficile da capire perché è ovvio che rimanda un film quindi ci ricolleghiamo a quello che si è detto ieri lasciamo perdere Blu Canaria Cristo Canarino e la polemica io sono russo russo bianco come russo ho letto tutto Tostoi ragazzi dopo aver letto io ho letto Guerra e Pace sono tredici anni quindi sono russo da adozione sono russo anche Nasha Russia posso recitare anche qualche poesia di Puskin in russo con un accento un po' schifoso insomma qualcosa ve l'ho detto io parlo tutte le lingue ma le parlo tutte male e quindi il mio problema è che parlo tutte le lingue ma tutte malissimo compreso l'italiano probabilmente questo diceva appunto è uno dei segni della della possessione del bambino ma il mio deve essere un diacono che l'ha studiato poco e so quei diavoli che parla l'aramacchio scusate no so dire in assino Anna Lugalla che a Lugalla in assino vuol dire il re il signore però anche il mio assino non è granché ecco se trovassi un assurbanipal insomma avrei dei problemi a dirgli qualcosa di sensato da oggi c'è uno studente ho parlato in tedesco con lui che è uno studente tedesco io risordisco sempre quando vado nella classe tedesca da si sferbotemi che era il mio cavallo di battaglia è proibito lui costruiva degli aeroplanini perché essendo oggi c'era sciopero quindi quando c'è sciopero va nelle classi e fa solo sorveglianza lui voleva costruire questi aeroplanini tipo la Luftfaffe e ha detto no ma poi gli aeroplanini partono dalla finestra beh non fare queste cose abbiamo fatto un dialogo in tedesco doveva essere uno studente dove diceva in tedesco però anche lì il mio tedesco faceva molto schifo e ho detto guarda io il tedesco lo capisco ma non mi fa parlare il tedesco perché da si sferboten da si sdasse eccetera eccetera e quindi ho litigato con tedeschi russi ho litigato con tutti quindi c'ho una antipatia che risulta antipatica a molte persone anche a persone che vivono a Vladivostok quindi ho dei io poi sono tendenzialmente rosso-bianco quindi non sono fascista sono fedele allo zare che è un altro posto cioè piccolo padre anche se vengo dalla Val di Chiana dove nell'arci della Val di Chiana mio nonno faceva il minatore e i minatori della Val di Chiana del Montamiate erano tosti ecco non erano comunisti ma tipo Mario Brega non erano comunisti è un po' diverso anche il comunista era diverso secondo me era proprio geneticamente un po' come tra una tigra e i denti a sciabola e un gattino siamese insomma la differenza tra un comunista degli anni 70 del Montamiate e uno di sinistra di Firenze del 2023 magari appartengono geneticamente c'è qualche parentela tra tigra e i denti a sciabola e il gatto siamese ma secondo me è una parentela che secondo me non è la stessa cosa ti trovi davanti una tigra dai denti a sciabola un gatto siamese insomma c'è il suo perché ma torniamo a Belfagor che è dell'RG e ovviamente rimanda qui dietro c'è la pubblicità di Jung e Goldrach che erano ovviamente dei fumetti erotici degli anni 60 ma veramente erotici e veramente il termine erotico penso sia sopravvalutato anzi assolutamente assolutamente ora non litigherò con i russi prometto farò il bravo non voglio litigare con nessuno non voglio litigare con nessuno sono bravo buono buono sono tanto di me allora ci sono 40 fumetti sono 40 uscite perché ora sto guardando su internet quindi sono 40 uscite uscite 40 dai perché uscite nel 66 dietro riesco a darci diavolo musica di Tovaioli sì penso siano quelle che a me piace tantissimo la musica di Tovaioli penso si chiamasse vorrei dire stupidaggini perché dico molte stupidaggini io sono una persona poi invecchiando Armando Trovaioli scusate Armando Trovaioli che è Tovaioli Trovaioli che beh a me piace tantissimo mi sembra Armando Trovaioli Arcidiavolo ha fatto anche la musica di Arcidiavolo però non vorrei dire una stupida Arcidiavolo ma penso che sia l'abbia fatta lui è Armando Trovaioli vedi c'è Trovaioli Arcidiavolo che era il figlio uscite nel 66 con Vittorio Gasma e Michi Rur che tra l'altro vi dico anche una curiosità sebbene sia ambientato a Firenze non è stato girato a Firenze ma a Montepulciano dove io cioè se voi guardate l'Arcidiavolo la piazza lì è dove c'era il mio liceo classico è proprio lì accanto perché è stato girato una piazza di Montepulciano se ci fate capi perché il palazzo comunale siccome Montepulciano era sotto il dominio dei Fiorentini pur essendo oggi in provincia di Siena quindi se guardate il film la piazza è proprio Montepulciano e io andavo in quella piazza lì e ci sono stato passato sei anni della mia vita perché lì accanto c'era il mio liceo classico era appunto l'ex fortezza medicia dove c'erano i cannoni dei Fiorentini e quindi piazza grande di Montepulciano riproduce in piccolo piazza della signora quindi questa è una piccola curiosità che vi lascio e le musici trovaioli ovviamente per sé gli attori protagonisti erano Gasman che faceva riprendendo ovviamente la celebre novella del Machiavelli Machiavelli eccetera eccetera il fagore è un diavolo che viene mandato sulla terra per ovviamente far danni a tutte le parti poi si innamora di una donna la sposa e poi scappa all'inferno e quando l'esorcista a un certo punto mi sembra che ossegga una fanciulla arriva l'esorcista e per scacciare Belfagorda arcigliavo dal corpo della fanciulla gli dice guarda sta arrivando tua moglie e questa è talmente paura della moglie non è proprio una storiella è un po' misocere il senso della storiellina era che la donna è peggio del diavolo ma te la con Machiavelli venite a rompermi le scadamme era scritta Machiavelli però il film era molto divertente con Gasman che appunto con Mickey Rourke che era eh Mickey Rourke voi vabbè cosa sapete di questo piccolino qui che fa il diavoletto era amico di Judy Garland che è grandissima quella di Mago di Oz grandissima cantante un po' esposa il celebre regista italiano-americano no no mi ha intentato vabbè Judy Garland Judy Garland è tutto tutto un trufurio Judy Garland mi ricordo mi riallaccio a Judy Garland coniugi a Michele Mike Disney ah Minnelli 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 che era appunto questo regista italiano-americano l'esame la figlia di Judy Garland capisce dalla voce e Judy Garland ha fatto diversi film con me e Mickey Rourke che in questo caso fa il diavolo con gas ma ovviamente la storia è è un film che abbia un immerso successo ed è tanto di quel successo che la RG ci pensava di farci un fumetto infatti se aprite questi fumetti ora è un po' difficile stabilire chi abbia disegnato chi abbia disegnato questa roba sono uscite 40 uscite esistono 40 numeri di questi che io ne ho solo uno però naturalmente l'ho pagato 5 euro non l'ho pagato neanche tanto devo dire ma anche in buone condizioni sì dal numero 9 il patto infernale il 10 la voglia di Lucrezia a fil di spada la bella rivelezza questo è il numero 45 la torre dei peccati che è uno degli ultimi numeri che poi si interromperà perché poi ovviamente come i disegnatori erano Leone Cimpellin Gino D'Aure Armando Bonato Cimpellin mi sembra lavorato ovvio sono tutti autori di quel tempo qualcuno forse credo o Bonato abbia lavorato con Diabolich Cimpellin credo anche con la Bonelli ma naturalmente non ci sono le firme dei questo mi sembra vagamente Gino D'Auro Gino D'Auro ma si trovo Gino D'Auro che era un disegnatore Gino D'Auro si queste sono le tavole di Gino D'Auro per Belfagor mi sembra no ma non so un po' difficile non sono in grado onestamente di Gino D'Auro tavola originale ovviamente trovata anche le trovate in vendita non credo che costino tanto le tavole di Gino D'Auro il primo grande fumettista sexy quindi è uno che si è occupato ha fatto anche Justine Angeli dell'Inferno il primo grande fumettista sexy questi sono fumetti sexy non sono proprio fumetti erotici nato all'Isola d'Astine nel 1932 ha vissuto a lungo a Torino e è scomparso nel 2005 ho fatto diversi fumetti tutti i fumetti che oggi sono Teddy Bob ha detto varie altre cose insomma tra i fumetti che ha disegnato è ovvio che questo Belfagor riprendeva appunto se ci fate caso se ci fate caso non si capisce tanto ma il protagonista assomiglia un po' a Gassman il diavolo assomiglia a Mickey Rourke un po' un po' cambiato ma insomma non so se Gino D'Auro o Cimperin sono un po' di però comunque non sono disegni cioè si capisce se guardate chi ha visto il film quindi questo assomiglia si capisce che è Gassman se fossimo nel 66 il lettore lo capirebbe subito ovviamente un lettore del 2023 che legge sulle manga sana cippa di tutto quello che sto raccontando io è ovvio che tra le regi ho visto anche i numeri di Mandraki che mi sono di Goldraki Goldraki ma mi sono fatto scappare mi sono un po' mangiato le mani di averli comprati perché comunque le avevo trovate a 5 euro l'uno insomma Goldraki Playboy alla circa di un va bene no non c'è nulla con Goldraki il grande cani l'ultimo dei cani i cani ma nel senso Giscanna i grandi cani ma non sono onestamente fumetti eroi cioè qui c'è scritto ovviamente Luciano via le ferie ovviamente non ci sono non ci sono lettura libera trasposizione in chiave satirica e in chiave satirica della dittatura amorosa rilascimentale in realtà però non sono disegnati male si riesce a capire che questo è gas io lo capisco non perché sia molto intelligente ma perché ho visto Berfagor naturalmente era un fumetto perché il fumetto è un successo strepitoso in questo caso Berfagor in realtà qui il diavolo è il Berfagor qui è una sorta di cavaliere che è aiutato dal diavolo ovviamente è un grande seduttore mi veniva un altro termine più specifico ma non lo posso dire ma in realtà se vi faccio vedere le scene sexy sono veramente veramente sono di una castità cioè questo è il massimo però ricordiamo che nel 66 era tanta roba una scena così nella 66 ma tanta roba tanta tanta roba cioè non si vede assolutamente niente cioè ci sono credo che rispetto ci sono dei Dylan Dog che c'è molto di più cioè il confronto Dylan Dog con l'ultimo Dylan Dog con l'acidiano Berfagor questo dice ma questo lo diamo ai bambini elementari che imparano a disegnare le colorano però naturalmente anche utile io sono un grande appassionato di questi fumetti ma non perché sono dei pezzi di storia ovviamente sono cioè nel senso che ogni epoca ha le sue ossessioni fissazioni quindi se noi leggiamo questo fumetto ci appare come un reperto etrusco dice ma cos'è sta roba nel senso che è Berfagor perché Berfagor fumetto per adulti poi non lo leggi prova niente assolutamente sì c'è un leggerissimo riferimento a un certo punto Berfagor dice che pare le scelte ovviamente le scelte sembra Geppo a volte sembra veramente la distanza io tra cioè sembra quasi Geppo a volte e ovviamente notate il fuoco come copre abilmente i sedi delle donne ma proprio a figli no in questa storia avete una regina perversa che utilizza un castello per sfogare se voglia poi i suoi amanti li uccide la mattina dopo che ricordano la reazione sul tema di l'Emilio una notte dove il sultano l'Emilio il califano mi ricordo cosa fosse e ammazzava tutte le sue moglie la mattina dopo eccetera eccetera naturalmente possiamo fare spoiler la vendetta di Berfagor sarà diabolica perché brucerà queste donne malvagie e crudenti e crudenti e crudenti e brucerà tutte nella loro torre malvagia eccetera eccetera se ci fate caso appunto rimanda in questo caso il legame tra il cinema e il fumetto è abbastanza stretto quindi io Berfagor è un film che mi è sempre piaciuto molto mi è piaciuto molto perché ripetendo ora non vorrei buttarla in politica però un film come Berfagor con Trovaioli eccetera eccetera anche riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso di chi era sempre no aspetta anche quello però mi piacevano più questi film e tutto mi piacevano i film anni sessanta con le musiche di Trovaioli perché io adoro Trovaioli e lo adoro lo adoro lo adoro la follia comparso dichiara il film allora riusciranno tutto il libro no del sessantotto questo film è dietro le scuole infatti dietro le scuole si capisce se guardate riusciranno a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso l'arcidiao dietro le scuole trovate che sono dei film sono dei film leggeri ecco visto che corrono gli anni cent'anni la nascita di Calvino la morte no perché morte negli anni ottanti ero ancora vivo ero ancora vivo ero già vivo però vedete prima di tutto le musiche di Trovaioli anche con musica portoghese cioè Trovaioli io l'adoro ovviamente potrei ascoltare per giorni interi Trovaioli perché era un grande si parla molto spesso di Morricone certamente Morricone però Trovaioli è stato altrettanto grande di Morricone e non so se Fabio non so Trovaioli Trovaioli cioè andate su youtube veramente vi consiglio a parte il blu canarino che sto dipizzando con dei russi e ruso poi anche questi potrebbero scrivere in inglese no voglio dire Trovaioli colonne sonore a quella bellissima questo del Angola Deus questa qui dite quello che vi pare scusate però ripeto a quello che diceva sono dei film questi di Ettore Scola che apparentemente sono dei film leggeri è quella famosa leggerezza di Calvino di cui parlava cioè nel ritrovare un amico misteriosamente scomparso si parla di Rambo perché ovviamente Manfredi fa una sorta di Rambo Rambo a un certo punto sparisce dalla Francia e va in Africa è ovvio che Ettore Scola racconta la storia di Rambo in chiave un pochino più leggera con Blie che fa il ragioniere marchigiano ovviamente doppiato ma è una cosa stupenda io lo adoro e l'Arcidiavolo ovviamente anche qui con la musica di Trovaioli è un film leggero so quei film che apparentemente di evasione che rimandano anche a film come quelli di Monicelli dove sono veramente Monicelli è schierato certamente era un autore schierato a sinistra penso che Blancaleone sono le scritture della storia molto Blancaleone le crociate però sono film leggeri e quando ci fu la polemica Monicelli e Nanno Moretta Nanni Moretti io adoro mi piace anche Nanni Moretti però gli attacchi di Nanni Moretti a Monicelli e a Alberto Sordi fu uno degli attacchi assolutamente ingiustificati forse dovuto alla stupidaggia dell'età perché non puoi attaccare uno che ha fatto l'armata Blancaleone non lo puoi fare perché tu non hai mai fatto un film così anche il secondo con Proietti che parla di Fiorentino perché ritorniamo sempre alla maledizione della politica nel cinema che appunto il cinema Monicelli che poi sono film di sinistra cioè se voi guardate di sinistra voglio dire c'è una critica della chiede della religione tutti in fila però ci sono dei momenti quando dice il frate mettetevi tutti in fila a lungo barna schianti da risate e questa cosa che si potesse ridere ecco questa cosa dà fastidio ad alcuni diciamo tutte le riviste di cinema ma il cinema dovevi entrare al cinema tipo come la messa in latino ti dovrei fare due coglioni così e se non ti facevi due coglioni così non avevi no e questo era quindi però il pubblico non parliamo poi di Totò tutti oggi sappiamo che è stato uno dei più grandi attori mai esistiti forse sulla faccia della terra se non fosse nato negli Stati Uniti Totò oggi sarebbe la stessa grandezza di Cianci Totò è stato massacrato dalla critica solo Pasolini che era una persona intelligente gli fece fare dei film a parte non che che fossero delle corde di Totò però fu uno dei primi e diceva Totò è un grande e quando Pasolini diceva guardate Totò è un grande attore tutti dicevano no ma Totò serve a far ridere le serve in libera uscita quando i tramvieri non so se ci capiamo quindi a me la commedia all'italiana poi non sono neanche un grande appassionato della commedia all'italiana anche dirò delle cose che faranno inorridire i cineasti i cinefili i cinofili più cinofili bau bau non c'è riconosco ovviamente che i soliti ignoti sia un capolavoro però non è un film che voglia dire cioè se fossi un'isola deserta e mi portassi dieci film della mia vita non mi porterei i soliti ignoti mi porterei lo sferato mi porterei forse del cinema tedesco americano non mi porterei neanche l'arcidiamo di Belfagor da cui appunto è stato tratto questo fumetto però ovviamente è un tipo di rinascimento così ludico eccetera anche perché poi il lettore scuola appunto nella rivisitazione in chiave simpatica del diavolo è ovvio che c'era una polemica antireligiosa ma non non becera nel senso non può anche perché negli anni 60 l'Italia è un paese molto cattolico io vengo da una generazione stracattolica oggi attaccare la chiesa è un po' come attaccare la croce rossa insomma ho visto un video a limiti del demenziale ma del demenziale in cui si diceva che la bibbia è anticostituzionale perché l'inferno è una penna eterna e la costituzione non vuole perché c'è la costituzione italiana io ho detto ma scusa ma tu stai dicendo cioè nessuno essere umano può dare una pena eterna nel senso anche se tu condanni all'ergastro qualcuno questo prima o poi muore la pena non può essere eterna cioè paragonare la bibbia a volte mi attaccia io non è che cioè io amo moltissimo Gesù sulla chiesa si può dire tutto il male che si vuole è ovvio che sto leggendo sui Vangeli Gnostici le lesie eccetera eccetera io sarei tranquillamente bruciato come eretico però alla fine gli attacchi anche gratuiti così per far vedere che sei spiritoso cioè scusate oggi fare delle battute sulla chiesa credo che qualsiasi comicaccio di provincia le possa fare sulla bibbia però è veramente non ha un grande effetto di rompente ormai perché come Duchamp fece i baffi alla Gioconda quando scola e faceva i film appunto l'armata blanca leone che vendeva in giro le bruciate negli anni 60 con di bellissimi guzzati mi sembra bellissimi eccetera eccetera in cui appunto le perzze guzzate e mi sembra anche la musica di l'armata blanca leone è musica che dove si ritrova io l'armata blanca leone film di chi era musica penso di no di Rustichelli ecco qui mi sono sbagliato a Carlo Rustichelli no non si capisce no infatti c'è qualcosa che non mi tornava però erano film che è ovvio che lì si prendeva in giro la chiesa eccetera però fatto negli anni 60 aveva un senso più dirompente cioè come Duchamp quando la prima volta fece i baffi alla Gioconda non la Gioconda vera oggi qualsiasi bambino prende una fotografia e fa i baffi alla Gioconda come i comici di moderni che fanno le battute su Abraham Isaac appunto quando lo faceva Voltaire nel 700 capite non è la si due idem faccio non est idem dice la Bibbia quindi sono no un fumetto però dicevo tornando a sì ovviamente c'è tutto però voglio dire i volti non sono disegnati malissimo io ho trovato molto gradevole anche la storia non è non è banale le donne che si ribellano al potere degli uomini insomma li usano come oggetti eccetera eccetera certo a me fa molto sorridere perché vedere il fatto in questo fumetto il legame è molto stretto nel senso che si calcava un film di successo perché è un grande successo la città di Oliver di Ettore Scola però mi riporta anche l'idea che secondo me quando si studia la storia si dovrebbe studiare in questo modo cioè anche riprendersi questi fumetti ovviamente di infima quando la storia è perché questo ce l'hanno insegnato i francesi le goffre eccetera eccetera non dobbiamo studiare solo le grandi battaglie dobbiamo vedere la gente della vita comune e certamente il fumetto quando noi prendiamo questo qui questo è ormai un reperto storico perché la Torre dei Sette Peccati che è del 69 che ormai questo fumetto ha 30 50 anni e passa tutto questo ci porta a cosa ci porta che ci porta a vedere come prendete questo e lo mettete d'accanto a un magno capite che fate questa operazione prendete Belfagore prendete il magno tipo Pluto o anche Dragon Ball capite che è passato un mondo cioè è passata cioè negli anni 60 questo era il fumetto naturalmente oggi se andiamo su Youtube vediamo che tutti fanno video sui manga ma non che io poi sembrerebbe sarebbe un po' stupidino che io facessi ai miei tempi si leggeva dei fumetti di sana moralità del Pagore Iacula no però se voi mettete accanto questi fumetti capite cioè solo queste due immagini vi fanno vedere com'è cambiato il mondo voglio dire io vado nelle bancarelli ovviamente recupero questi pezzi d'antiquariato però ci trovo ora io ovviamente nel 69 non leggevo un anno del Pagore nel senso che ovviamente queste donne malvage però ci ritrovo un pezzo della storia d'Italia e allora secondo me la storia non è di destra se torniamo sempre destra o sinistra che appunto etichettatemi come volete io ho un'età in cui ormai sarò per essere etichettato nella tomba nel senso che etichettate come so tra il destro e il sinistra boh fu ucciso dai democratici però il simbolo della democrazia della filosofia però fu ucciso da un regime democratico lo parli tra il destro e il sinistra si era ateo ma la sua poesia è quanto di più aristocratico esista sulla faccia della terra procomberò solio non è proprio studiato per i contadini mentre Manzoni che è sempre stato gabellato come scrittore di destra con importare il romanzo in Italia è una secondo me molto più di sinistra Manzoni lasciate perdere il contesto cattolico ma il romanzo è più popolare quindi Manzoni si preoccupava popolare per quanto potrebbe essere popolare uno scrittore però Manzoni si preoccupava di allargare il pubblico dei vettori cosa di cui Leopardi non fregava niente capite che questa cosa destra e sinistra a me fa solo ridere perché io se vedo i comunisti da Valdicani anni settanta vedo tutti cioè quelli facevano paura quando si riunivano 50 minatori del Montamiata i carabinieri di Pian Castagnaio gli pigliava la strizza se la facevano sotto io ho visto cioè per esempio anche nelle manifeste c'è sempre quello grosso io gli sono passato accanto non mi faceva a vento ma perché gli fa paura così ma dai è un teatrante quando c'è la persona pericolosa non è quella che fa la persona pericolosa era come mio nonno che chiamavano Peppe Buio perché quando usciva dalla miniera usciva nero nero di carbone quindi usciva nero e incazzato come una belba perché dopo otto ore in miniera esci incazzato incazzato con tutti quelli che non gli devi rompere le scato l'ominatore che esce dalla miniera che ha due braccia così non gli rompi le scato uno non ti dice niente c'ha le ossa rotte non gli vai a rompere le scato perché no ti spezza come un biscottino plasmo mentre quello che recito e fa la sua particina a me non mi fa nel caldo nel vento perché non mi fa paura perché ho visto gente che faceva veramente paura che faceva paura stando seduta in un bar arci però quelli capivi che quelli se ti tiravano fuori un coltello ti facevano fare la fine del capretto non so se ci si chiama è tutto un mondo che ha cambiato quindi a me destra e sinistra non mi dice niente io non sono di quella razza lì per esempio mio nonno a dieci anni provò a insegnarmi a sparare metteva a dieci anni a noi ci mettevano i fucili in mano perché mia madre era cacciatore io ho cercato come una tappa e non me lo mise più perché stavo lì che leggevo l'Isola del Tesoro perché sono oppositore in tutte le salse cioè sono qualcosa che dove lo metti stona cioè se lo metti in un gruppo di destra stona se lo metti in un gruppo di sinistra stona eccetera quindi stono sempre sto sempre sono come la stecca nel coro qualsiasi coro ci sia io sono una nota stonata era una nota stonata in mezzo ai contadini a Valle di Chiana che si spesa e mio nonna dic capite mio nonna era non gobar guardate altru due metri biondo perché usceva stono tremendo lo faceva paura ragazzi cioè se fosse passato lui la manifestazione di oggi i carabinieri avevano scusate io non l'ho fatto il show però lo dico tranquillamente perché 70 80 euro allo stato se io gli regalo 80 euro allo stato lo stato è più che contento il sindacato non mi rimborsa neanche un euro di quello lì dice vabbè non è partecipato pace nel senso perché a me onestamente d'anarchio mi sembra la destra il governo e i sindacati mi sembrano il gatto e la volpe e io so Pinocchio che ci perde i 40 denari con terra e siccome di fare la figura del fesso Pinocchio non mi va più di tanto anche perché poi si tratta solo di non presentarsi al lavoro per 3 o 4 ore poi tutti i compiti a casa ce li ha da correggere lo stesso quindi mi spiegate che cavolo di sciopolo è quindi io ho detto io a Salvini i miei 70 80 euro non glieli do ci vanno a comprare i fumetti lo so pensiero egoista prendetelo così ma non so se è di destra o di sinistra perché quando facciamo sciopolo noi ci tolgo una busta paga 80 euro per una giornata e allora ho detto ma a questa cosa cioè il sindacato mi rida un euro ah sì io pago l'iscrizione io sono anche iscritto al sindacato cioè i gai pagano l'iscrizione mi fa perdere 80 euro poi questa diversa manifestazione avrà qualche effetto no assolutamente niente e tu io però mi sono trovato 80 euro meno nella busta paga e me la sono presa come il cetriolo che essendo figlio di contadini dove va il cetriolo e io mi sono stufato che il cetriolo dice questo è un discorso qualunquista ebbene sì siamo nel qualunquismo più sfrenato e io i miei 80 euro ci compro arciglia arciglia berfagone e eiacula e chi non è contento e chi non beve con me peste lo colga come diceva Medeo Nazari non c'erba il fine che a me piace la scena delle berfe ma li sa io c'ho anche il test ma questa invece come è un'altra storia comunque se mi piace naturalmente vabbè leggete i manga dai il manga no ultimo avvertimento perché questo video sta durando troppo non sperate di trovare delle scene sexy questa cosa qui andava bene negli anni 60 oggi ovviamente fa ridere i polli dopo aver fatto ridere i polli possiamo andare a letto sono già le 22.27 e io mi taccerei